ogni essere perché dici che la reincarnazione è una sovracultura commento perché sentire la reincarnazione non ha nulla che vedere con la mente per la mente ogni essere è un piccolo segmento effimero ed impermanente nel relativo per la coscienza ogni essere incarnato perché ancora non conosce ciò che realmente è